Sono molto emozionata di salire sul palco di Sanremo, anche tanto onorata. Il mio obiettivo è di esserci su quel palco, sentirlo, essere presente e portare a casa un po' di serenità se si può. La mia performance sicuramente farà muovere, perché credo tantissimo nel far muovere le persone con un significato dietro. Però voglio anche raccontare la mia storia, che è appunto quella di Un cuore amaro, che è il mio. In questo momento la mia musica sento che debba essere libera, libera e piena di influenze, e non incasellata e non un'unica cosa, perché non sono questo, perché sono tante cose e voglio celebrare tutte le anime che ho dentro e cuore amare una di queste. Il pezzo nasce quest'estate, ho fatto una session di scrittura con le persone con cui scrivo di solito, i produttori, le autore con cui collaboro. L'ultimo giorno, che solitamente è il giorno dedicato al, se vogliamo, cazzeggio, abbiamo scritto il pezzo che in realtà inizierà questo nuovo racconto. Le mie origini sono importantissime, ma non solo per il bagaglio culturale che portano, ma perché fin da subito mi hanno regalato la cosa più preziosa che ho, che è un approccio aperto mentalmente verso tutto. È stato difficile non poter condividere anche la situazione live, che è quella che prediligo con il pubblico. Mi auguro che si possa parlare di live molto presto e che Sanremo sia l'inizio di tutto questo.